Orientarsi nella ricerca del lavoro, sapere insomma a quale porta bussare o oggi più che mai a quale indirizzo cliccare in rete è già un primo passo significativo per evitare ai lavoratori di sentirsi isolati. Cerco lavoro è la guida realizzata dalla CIS di Ancona proprio per fornire un supporto concreto a chi è alla ricerca di un impiego, a qualsiasi età. Ci trovate soprattutto all'inizio una mappatura degli attori del territorio, quindi tutti i soggetti pubblici e privati autorizzati a fare intermediazione di mano d'opera. Poi troviamo una sezione dedicata agli strumenti, principali strumenti per la ricerca del lavoro, quindi dal curriculum, la lettera di autocandidatura, il curriculum Europass. E poi c'è una parte dedicata alla normativa che è in evoluzione perché ci sono delle novità riguardanti il riconoscimento dello status di disoccupazione oppure quella che riguarda i tirocini che sono state ritoccate e riviste dalla riforma Fornero. Poi c'è una sezione dedicata al miglioramento dell'occupabilità, quindi tutta una sezione dedicata alla formazione. Ancora più emblematico ed indicativo è il titolo della seconda guida, Io non sono solo. Questa volta ha voluto dalla CIS per offrire una mappa utile a tutti i cittadini e le famiglie alla ricerca di prestazioni e di servizi di welfare. L'abbiamo suddivisa per aree di intervento, aree famiglie, aree anziani, disabili, cittadini, l'area della discriminazione. Perché abbiamo voluto indicare gli interventi e i servizi socioassistenziali per far sì che le persone che abbiano bisogno possano rivolgersi ai servizi che sono presenti sul territorio, comuni o associazioni anche di volontariato o la stessa Cisola di Ancona per poter accedere a queste prestazioni sociali.